Segui Politica Italiana News anche su Facebook? Un like è gratis, ma sarebbe di grande aiuto per far crescere il canale. Puoi trovare il link in descrizione. Nell'edizione odierna della sua newsletter, il capo di Italia Viva, Matteo Renzi, ha condiviso le sue riflessioni riguardo alla scelta della deputata Elena Bonetti di abbandonare il suo partito e avviare una nuova iniziativa in collaborazione con Carlo Calenda. Va notato che, almeno per il momento, questa nuova iniziativa non comporterà l'adesione ad azione. È importante sottolineare che Elena Bonetti ha precedentemente ricoperto la carica di ministra della famiglia e delle pari opportunità durante il governo guidato da Mario Draghi. Dopo quattro anni stiamo finalmente facendo i congressi. Non possiamo continuare a nominare ministri e deputati senza democrazia interna. Qualche amico che non condivide il percorso di democrazia interna ha annunciato di lasciare Italia Viva. Mi spiace ma non sarà né il primo né l'ultimo. È fisiologico che qualcuno vada e altri arrivino. Nella nostra storia è sempre stato così. Non chiedo riconoscenza per ciò che in tanti hanno ricevuto perché so benissimo che la gratitudine non è una categoria della politica. Chiedo anzi il massimo rispetto per tutte e tutti quelli che se ne sono andati e se ne andranno. Auguri di tanta felicità e nessuno insulto. Questo è il nostro stile. E chiedo di accogliere con entusiasmo i nuovi arrivi. Ha scritto ancora Renzi. Dopo le politiche eravamo 14 parlamentari, ora siamo 15. Avevamo 10 consiglieri regionali, oggi sono 15. Abbiamo raddoppiato gli iscritti. Ci aspetta una sfida bellissima e il tempo come sempre dirà chi ha ragione. Iscriviti al canale.